Are you ready? Stand by! Se faccio porta su pure quello l'olio design ma dobbiamo portare il porto? Eh lo porto io, ho montato, poi ho montato ormai Porta su in macchina Poi muoio, e se se vado di tornare giro RIPPAC! 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 Sparo su quello di fianco RIPPAC! 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 Zippa! Zippa! bravo 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 nemmeno da bravo 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 Ipa! 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 Cala cuffia! Ipa! 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 Guarda! Guarda! Sono pronto! Le posizioni sono buone! Se indivini la posizione può attestare a 6 minuti. Le posizioni non sono buone. è una tua, non è stava Grazie a tutti. 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 Tu devi fare ancora un sacchetto che ti serve veramente nella tua destra. Perché c'è molto l'avvallamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.